È il taglio di capelli. Poi con Tractor andate tutti dello stesso barbiere. Controllalo. Non si sente bene. Forse è meglio usare questo. Forse è meglio usare questo. Forse è meglio usare questo. Polizia, fermi! Buttate le armi! Signore, ho detto di buttare l'arma! Sono della polizia militare! Non è un poliziotto! Signore, butti l'arma! Sono della polizia militare! Signore, deve buttare la sua arma! Senta, lo so, lo so cosa sembra, lo so, lo so! Adesso io butto l'arma, mi ascolti! Sono della polizia militare, questi sono fuggiaschi dell'esercito degli Stati Uniti! Signore, mani dietro la testa! Ho capito, mi sto girando, mi sto girando! Ora, metta le mani dietro la testa! Ok, se vuole il mio tesserino è nella tasca destra, vuole controllare? Controlli! Sparami e la lascio! Sparami, sparami, Jack! No? Sparami! Sparami e la parasorsa è chiuso! Sparami e la parasorsa è chiuso! Hark, ne sei in arresto! Congratulazioni, Jack! Ti giuro che non me ne frega un cazzo! Sta zitta! Sta zitta! Ti ho detto che sarebbe andata così! Hai detto che è una cosa fra te e me! Butta a terra la pistola! Ok, ok! Ok! Se butta a terra la pistola, lei è libera! La mia vita per la sua! No! Carina! Andata, Jack! Ok, Samantha! Guardami! Ok, è tutto ok! È l'unico modo! Ok, è ok! Metto a terra la pistola ora! Lo sai che vuol dire? Vuol dire che siamo già morti! Di qua! Manda là di qua! Ehi! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.